Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 12 in diretta. Apriamo subito, come facciamo sempre con le ultimissime notizie che arrivano dal web, dall'agenzia ANSA in particolare, che ci dà la buona notizia delle medaglie alle Olimpiadi di Pechino che arrivano a quota 10 con quelle di Dorotea Wierer e di Ghiotto, che entrambi hanno conquistato un bronzo. Di questo parleremo dopo nel punto sulle Olimpiadi a cura di Stefano Giovampietto. Per quanto riguarda il resto, altre buone notizie arrivano sul fronte della lotta alla pandemia perché l'RT risulta ancora in calo e l'incidenza si è dimezzata in tre settimane. Questi sono i primi dati che arrivano dal monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute. Calo dei casi non associati a catene, aumenta il tracciamento intensivo e più piene nelle Marche 23,9 reparti in Abruzzo, 37%. Per il resto sono in calo un po' dappertutto, questo autorizza sicuramente all'ottimismo. Speriamo che anche in queste due regioni, Marche e Abruzzo, possano calare i dati che vedono rispettivamente le intensive e l'area medica con le percentuali di occupazione più alte del Paese. Dunque andiamo a vedere anche cosa succede in funzione di questi dati, quali sono le prospettive nel servizio dell'ANSA perché l'altra buona notizia è quella che se continuerà questo trend a marzo potrebbe essere allentato il Green Pass e cioè potrebbe essere più semplice muoversi per chi non ha il Super Green Pass e quindi potrebbero essere stabilite nuove regole di utilizzo di questo requisito. Sentiamo. L'Italia vede il traguardo della riapertura del Paese due anni dopo l'inizio della pandemia e proprio nel giorno in cui si supera l'ennesima soglia simbolica, quella dei 150.000 morti, a causa del virus. Finisce l'obbligo di utilizzare le mascherine all'aperto, una misura che era stata decisa con il decreto del 13 ottobre del 2020, dunque 16 mesi fa, quando a Palazzo Chigi c'era ancora Giuseppe Conte. È l'inizio di un percorso che da qui alla fine di marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, porterà ad un allentamento di tutte le restrizioni, compreso il Green Pass, e che non è escluso, possa avere anche un'accelerazione con alcuni divieti che potrebbero cadere anche prima del 31 marzo. Si può dunque tornare a circolare per le strade di città e paesi con il viso scoperto, anche se sarà obbligatorio avere con sé la mascherina e indossarla nelle situazioni di assembramento. Si tornerà anche a ballare con la riapertura delle discoteche, il settore più penalizzato in questi due anni. Ma mascherine e discoteche sono solo i primi due step di quella roadmap annunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi per riaprire il paese, che al momento ha altre due date, il 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, e il 15 giugno, quando invece finirà l'obbligo di vaccinazione per gli over 50. Sul primo punto, l'orientamento del governo è quello di non prorogarlo, soprattutto se si confermerà il calo dei contagi e dei ricoveri, e per evitare fibrillazioni nella maggioranza. Diverso il discorso sul Green Pass, perché se è probabile che per i cinquantenni resterà la data del 15 giugno, altri interventi potrebbero essere anticipati con le regioni che già chiedono di accelerare. E quindi la possibilità che venga allentata la morsa intorno a chi non ha il Green Pass rafforzato, in particolare quello con le tre dosi, potrebbe scattare dal mese di marzo, come abbiamo letto nei giorni scorsi, la quarta dose, per esempio, alla quale si poteva ipotizzare, si legasse un rinnovo del Super Green Pass rafforzato dopo un certo numero di mesi, non è più un'ipotesi considerata. Si va verso la dose annuale, come avviene per l'influenza, per l'anti-influenzale, e dunque il Green Pass man mano dovrebbe cominciare a perdere di validità progressivamente con il migliorare della situazione. A proposito di situazione migliorata, andiamo a vedere i dati della nostra regione, perché ci sono dati sicuramente più confortanti. 1.936 sono i contagi giornalieri, meno 23 rispetto a quelli del giorno precedente, 39 i pazienti in terapia intensiva, quindi uno in meno, meno 22 invece il calo negli altri reparti. Da notare che la regione ieri ha comunicato anche la percentuale rispetto a questo numero di persone ricoverate in particolare, e solo per gli altri reparti, perché chi è in intensiva ha guai seri, ha il Covid ed è in intensiva, perché il Covid ha provocato guai importanti. Negli altri reparti invece ci sono anche dei ricoverati che stanno in ottima salute, sono asintomatici, in ottima salute no, altrimenti non sarebbero in ospedale, ma almeno non hanno problematiche di tipo Covid, però sono positive. e siamo intorno al 40%, quindi il 40% di questi 407 ricoveri in altri reparti area medica non critica, sono di persone che hanno il Covid, nel senso che sono positive, ma sono asintomatiche, non hanno necessità di trattamenti per il Covid, ma ovviamente devono essere isolate, devono rimanere in reparti, che altrimenti potrebbero essere utilizzati diversamente, occupare posti letto, che potrebbero essere utilizzati diversamente. Questo è uno dei temi sui quali si discute ormai da tempo, e la Regione Friuli Venezia Giulia ha anticipato il governo, che dovrebbe stabilire una possibilità di conteggiare sul fronte della pressione ospedaliere in maniera diversa chi è ricoverato, perché ha dei problemi legati al Covid, e chi è ricoverato per altre cose, ma è risultato positivo al tampone effettuato proprio in ospedale per andare a fare altri esami, per andare per altre ragioni. Qui siamo sul quadro dell'occupazione in area medica, come potete vedere la discesa è iniziata dai 479, che sono stati uno dei punti più alti degli ultimi giorni, dell'ultima settimana, nel punto più alto l'abbiamo toccato con il 519, proprio l'ultimo giorno di gennaio. Nel mese di febbraio un po' di saliscendi, e poi la discesa 479, 455, 429, 407. Dunque, buone notizie da questo punto di vista, si spera di scendere al di sotto del limite di 383, che indica la linea arancione, e cominciare dunque ad avere dei parametri che potrebbero portare, ammesso che si continui ad operare con il sistema dei colori, portare il fluido di Venezia giù in zona gialla. Vediamo come è la situazione invece nelle terapie intensive, dove abbiamo il parametro della zona arancione, che è stato superato con 39 posti letto, siamo ancora abbastanza alti dal limite di 35, qui viaggiamo su numeri fortunatamente più bassi rispetto all'area medica, anche in questo caso c'è un trend che al ribasso dai 42 ai 39, ma è un andamento molto più difficile da prevedere e da inquadrare in un trend rispetto a quello dell'area medica. Comunque siamo a 39, siamo scesi sotto i 40 di nuovo, l'ultima volta che l'avevamo fatto era stato il 5 di febbraio, questi sono dati sicuramente importanti che ci permettono di fotografare la situazione di pressione nel nostro territorio. In funzione del miglioramento di molti parametri, delle decisioni che il governo di conseguenza sta assumendo, riapriranno dunque le discoteche. Abbiamo sentito anche un accenno nel servizio precedente, ma andiamo a fare proprio un focus con un servizio sulle discoteche, che riapriranno. Le discoteche sono state sicuramente il comparto più colpito, più duramente colpito, dalla pandemia, da quando il Covid ha iniziato a romperci le scatole. Passateci il termine, le discoteche sono state quelle che hanno avuto i danni economici maggiori. Sentiamo il servizio. Le luci si riaccendono, la musica torna a vibrare, ma l'umore non è alle stelle, perlomeno non lo è quello degli imprenditori del settore divertimento. Dopo quasi due anni di stop imposto dalla pandemia, interrotto solo per pochi mesi, nell'estate 2020 e nell'autunno 2021, le discoteche riaprono con una capienza ridotta al 75% per i locali all'aperto e al 50% per quelli al chiuso. E ci sarà l'obbligo di esibire il Super Green Pass e di indossare le mascherine, anche se non in pista, e di mantenere la distanza interpersonale di due metri. Quasi nessuno tra i gestori, comunque, ha deciso di festeggiare. Tutti o quasi hanno programmato eventi a partire dal prossimo weekend. Qualcuno ha rimandato ancora, temendo un dietrofront dell'ultimo secondo. Le ragioni sono principalmente organizzative, in quanto l'allestimento dei locali richiede tempo e cura, ma anche legate al periodo. È una riapertura faticosa, ha spiegato Maurizio Pasca, presidente di Associazione Italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. In molti non ci riusciranno e lo farà solo chi è sopravvissuto. Siamo stati trattati come figli di un dio minore fino ad oggi ed ora torniamo a riappropriarci del nostro diritto al lavoro, ma non so in che modo. Molti non ce l'hanno fatta, hanno svenduto le aziende per pochi soldi. Dai dati dell'associazione, risulta che sono 3459 le discoteche in Italia per un fatturato anno di 2 miliardi. La montare dei bonus è stato invece pari a 80 milioni di euro. Il tema quindi resta un tasto dolente per i gestori e per le associazioni di categoria che sono d'accordo nel rilevare che il blocco imposto è stato troppo lungo in assenza di ristori adeguate alle perdite. E adesso andiamo con Angela Caino a parlare dei lavori del CAF. Andiamo a vedere a che punto siamo, qual è il cronoprogramma. Sentiamo. Dopo la demolizione del serbatoio di Basaldella, il CAF che ha il lavoro per mappare e decidere anche come intervenire sugli altri manufatti di questo tipo. Ingegner Gallina, al momento cosa c'è di certo e di sicuro? Dove interverrete? Beh, noi stiamo mappando tutto il territorio e abbiamo deciso appunto di demolire altri serbatoi. Serbatoi che non sono più utili al CAF in quanto sono stati dismessi. Questi sono i serbatoi, sono quelli di Chiopris, quelli di Tissano e di La Tisana e Via Mazzini. Questi sono tre serbatoi sicuri della demolizione, però noi abbiamo altri, stiamo studiando la situazione, stiamo valutando altre disconnessioni idrauliche e altri serbatoi che non sono più utili al nostro sistema. Quanti sono questi serbatoi sul territorio di vostra competenza? Noi abbiamo circa una sessantina di serbatoi a fungo, circa, e dislocati su tutto quanto il territorio. Che necessitano di essere controllati, demoliti oppure ristrutturati, perché? Beh, CAF appunto monitora tutti i serbatoi e sono serbatoi datati dal 58 al 64, quindi sono abbastanza datati e questo cosa ci porta? Ci porta continuamente a valutare la situazione. Allora per certi serbatoi appunto li demoliamo, altri cercheremo di ristrutturarli, specie se sono strategici per il nostro territorio, come per esempio il serbatoio di Feletto, che nei prossimi mesi subirà un intervento abbastanza, diciamo, importante. Per quanto riguarda la demolizione, delle tre strutture che ha citato, avverrà sempre attraverso l'esplosivo, quindi una demolizione controllata? Sì, sono demolizioni, chiamiamole sicure, appunto, verranno fatte due sicuramente con l'esplosivo e uno con i metodi tradizionali. Noi utilizziamo questi sistemi con bico carica e con esplosivo quando le situazioni sono un po' particolari, quando siamo in presenza di serbatoi abbastanza alti e paradossalmente sono sistemi più sicuri. L'importante è avere un'aria di caduta e appunto fare un materassino in modo che il colpo sia ben attutito. Più sicuri e anche paradossalmente più economici. Quanto è costata la demolizione del serbatoio di Basaldella? La demolizione del serbatoio di Basaldella è costata circa 64 mila euro e rispetto ai sistemi, diciamo, normali, fatte con le pinze, e una spesa quasi dimezzata. Il prossimo weekend sarà il weekend della prima nazionale delle nozze di Figaro, una produzione del teatro Nuovo Giovanni D'Audine che andrà in scena il 12 e il 13. Il 13 ci sarà la vera e propria esibizione al teatro. Allora andiamo con Angela Caino a parlare proprio di questo in esterna oggi. Angela, buongiorno. Buongiorno Francesco. Ci siamo in diretta dal teatro Nuovo Giovanni D'Audine assieme al sovrintendente Marco Feruglio che domani e dopodomani dirigerà l'orchestra di Padova e del Veneto per questo debutto nazionale delle nozze di Figaro prodotte proprio dal teatro Nuovo. direttore sarà una giornata di festa quella di domani soprattutto la prima ufficiale di domenica domani lo ricordiamo c'è lo spettacolo per le scuole c'è voglia di festeggiare di ritornare alla normalità con quest'opera che è un'opera comica quasi possiamo dirlo. sì nonostante l'argomento sia piuttosto serio ma la versione di Mozart naturalmente la traduce in una fantastica opera comica e sentimentale al tempo stesso è un momento di grande festa di gioia dopo tutto quel che è successo poter tornare a uno spettacolo con il teatro che è già sold out con una nostra produzione per un titolo così importante direi un'anticipazione per i nostri 25 anni che celebreremo ufficialmente a partire dal prossimo autunno. ecco noi siamo sul palcoscenico alle nostre spalle potete vedere un pezzo della scenografia che non possiamo mostrarvi svelarvi nella sua interezza una delle tante porte protagoniste di quest'opera ci sono tanti personaggi che entrano che escono ci sono cambi continui tanti cantanti in scena e anche questo direttore un altro aspetto da sottolineare. sì senza altro da sottolineare il livello internazionale del nostro cast un cast numeroso con 10 cantanti tutti specialisti in questo repertorio tutti ospiti abituali dei più importanti palcoscenici dal Metropolitan, Covent Garden, l'Opera di Vienna, l'Opera di Berlino, i festival di Salzburg, Gleilborn. comunque molto giovani ancora e molto affiatati, grandissimi attori oltre che grandissimi cantanti così come si deve essere per questa quest'opera che è di teatro prima ancora che è un'opera lirica. quindi insomma ci sono tutte le condizioni perché sia davvero una grande festa qui al Teatro Nuovo? lo speriamo, mai parlare in anticipo, per caravanzia è giusta prudenza ma gli ingredienti sono stati calcolati, scelti con grande cura proprio perché tutto questo possa avvenire e possa regalare al nostro pubblico uno spettacolo di livello al pari di quello che spero si sia abituato con la stagione sinfonica che già da qualche anno può apprezzare sul nostro palcoscenico nella nostra programmazione. ecco e per arrivare pronti alla visione di quest'opera il teatro ha messo a punto una serie di incontri, nei giorni scorsi c'è stato l'incontro con il musicologo Ruffin, questa sera con Angelo Foletto, un altro approfondimento, domani ci sarà l'incontro con il regista Ivan Stefanuti, con il direttore dell'orchestra Marco Feruglio, la compagnia insomma tanti appuntamenti per arrivare pronti a questa che dovrebbe essere, lo speriamo, una vera giornata di festa per il teatro ma anche per tutta la città. Ringraziamo il maestro Feruglio arrivederci, vi aspettiamo e la Lina può tornare allo studio grazie, grazie Angela e in bocca al lupo a tutto il teatro nuovo Giovanni di Audina, il direttore a tutto lo staff che si occupa di questa grande opera, di questa grande produzione della quale siamo anche media partner con un certo orgoglio, una certa soddisfazione. Rimaniamo un attimo allora a questo punto nella pagina della cultura perché abbiamo anticipato il collegamento dal teatro andiamo a vedere il servizio preparato invece su un altro evento, un concerto di Audimus, sentiamo L'orchestra è nata perché c'era l'esigenza, l'urgenza di creare un gruppo che desse spazio ai giovani per fare esperienza con il grande repertorio sinfonico e che potesse essere affiancato da persone di già chiara esperienza che ha lavorato in orchestra in modo da prendere il mestiere anche da loro tutto questo è nato nel 2012 e da allora dopo dieci anni noi siamo felici di aver fatto tante cose e di coronare questa prima decade qui a Udine e a San Vito al Tagliamento con un grande concerto sinfonico Un grande concerto sinfonico perché saranno tanti gli strumentisti che suoneranno? Sì è un'orchestra di 55 elementi, direttore compreso e quindi il repertorio è molto molto grosso, molto importante per noi sono sicuro sarà un grande spettacolo per le persone e i ragazzi, i musicisti sono entusiasti di questa esperienza ed è la cosa più bella perché è fatto anche per loro naturalmente Per un giovane musicista è importante suonare davanti a un pubblico, è importante anche avere a che fare con chi fa già questo mestiere di professione Assolutamente è vitale perché è un mestiere di bottega in un certo senso, si impara artigianalmente anche non soltanto sui libri Quindi questa è un'esperienza fondamentale ed inoltre per noi è molto importante anche il portarlo alla cittadinanza I nostri concerti come lei ha ricordato sono gratuiti proprio perché noi vogliamo fare un servizio culturale non è un modo di fare cassa o di arricchirsi e quindi i ragazzi lo sanno e con grande merito lavorano anche proprio per questo motivo non per guadagnare ma per fare musica e fare cultura Dopo i concerti di questo fine settimana quali saranno i prossimi appuntamenti per questo decennale? Abbiamo già delle cose fissate e speriamo di fissarne anche altre quelle sicure sono tre concerti a marzo per la festa della donna che saranno organizzati il 12 a Spilimbergo, il 13 a Tolmezzo e il 19 a Castions di Strada con la solista Patrizia Tassini all'Arpa, grande musicista friulana e poi successivamente la prima settimana di agosto faremo una grande masterclass di trombone al Teatro Giovanni Daudine con un concerto finale in collaborazione con le università di Essen in Germania e di Denver in Colorado quindi una cosa importante internazionale che ci onora moltissimo E adesso facciamo un passo indietro e andiamo a parlare di cronaca Parliamo di cronaca con un'operazione dei carabinieri che hanno sequestrato in tutta Italia carne, suine, denunciato due persone e sono scattati poi controlli in tutta la nazione ed anche nella nostra regione i militari dei reparti tutela agroalimentari, il RAC di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina hanno infatti eseguito in questi giorni controlli di filiera nel settore zootecnico e dei marchi di qualità, ispezionando oltre 30 aziende di trasformazione e vendita di carni suine per verificare la corretta applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti a tutela delle indicazioni geografiche del consumatore al termine delle ispezioni effettuate presso salumifici, prosciuttifici e macellerie delle province di Aosta, Asti, Varese, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Ferrara, Roma, Frosinone, Salerno, Napoli e Messina sono stati riscontrati irregolarità riguardanti la mancata indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate in ottemperanza a quanto risposto al decreto ministeriale del 2020 sono state sequestrate oltre 10 tonnellate di carni suina lavorata di vario tipo per un valore commerciale di circa 135 mila euro e contestate sanzioni amministrative per circa 38 mila euro ed elevate di fili a sanare alcune irregolarità accertate ricordiamo che bisogna ovviamente attenersi a disciplinari molto rigidi come fanno per esempio qui nella nostra regione al consorzio del prosciutto di San Daniele adesso invece una replica da parte di studenti ai Novax che imbrattano i muri delle scuole in particolare spesso proprio quelli delle scuole per veicolare i loro messaggi contro i vaccini non si toccano i bambini ma nemmeno le nostre scuole la notte si dorme non si imbratta prossima volta mandate una mail sono alcune delle frasi scritte su alcuni cartelloni esposti alla porta d'ingresso alla scuola Rismondo di via Forlanini nel comprensivo Masì dove due notti fa i Novax hanno compiuto atti vandalici scrivendo ovunque con vernice spray di colore rosso cartoncino e pennarello per rispondere agli spray con le firme Marta, Luca Cecilia, Giacomo, Aurore ed altri ancora come riportano i colleghi di Telequattro di Trieste le frasi scritte da Novax sono state cancellate poi dal servizio specializzato del Comune la pagina sportiva apriamo con il punto Olimpiadi perché ci sono le due medaglie alle quali abbiamo già accennato in apertura di telegiornale ce ne parla Stefano Giovampietro Altra giornata di medaglie per l'Italia a Pechino 2022 partiamo dalla medaglia della doppia cifra la decima conquistata da Dorotea Wierer nella disciplina dello sprint donne 7,5 km del biathlon davvero stoica l'atleta azzurra che è riuscita a piazzarsi al guardino più basso del podio con il tempo di 21 minuti, 21 secondi e 5 decimi alle spalle dell'imprendibile Roesland atleta norvegese seconda invece è arrivata Elvira Öberg della Svezia successo molto importante per Dorotea Wierer che però fa da contraltare a quella che è stata una gara piuttosto deludente di Lisa Vitozzi le due che hanno avuto anche qualche frizione, qualche ruggine in passato come vi abbiamo documentato nei nostri approfondimenti quotidiani ha chiuso 36esima l'atleta friulana ben lontana insomma dalla top 10 soprattutto penalizzata dai 4 errori al primo poligono ha chiuso a oltre 2 minuti e 20 di ritardo dalla vetta e quindi sfuma ancora una volta un possibile buon piazzamento per la Vitozzi che deve osservare poi anche i festeggiamenti di Dorotea Wierer bronzo numero 9 che l'Italia aveva conquistato poco prima con Davide Ghiotto nella 10.000 metri uomini di speed skating pattinaggio sul ghiaccio con il tempo primato italiano di 12 minuti 45 secondi e 9 decimi si è issato al terzo posto come abbiamo detto alle spalle dello svedese Van der Poel e dell'olandese Roest continua quindi ad arricchirsi il medagliere azzurro non lo aveva fatto nel Super G donne dove sono arrivate cocenti delusioni dalla spedizione di Italia Team con la vittoria della svizzera Lara Gut Berami famosa anche per essere appunto moglie dell'ex calciatore dell'udinese ma sciatrice provetta e lo ha dimostrato con questo oro infine concludiamo tornando ai nostri atleti friulani facendo gli auguri ad Alessandro Pittin che oggi compie 32 anni in attesa di riscattarsi dopo la prima prova olimpica che non è andata un granché e chissà che magari non possa riscattarsi ricordiamo per lui la quinta olimpiade è uno dei più presenti della spedizione azzurra è stato presente infatti a Torino, Vancouver, Sochi, Pyeongchang e adesso si sta godendo Pechino per la prima volta da papà dopo la nascita della piccola Sofia quindi a lui vanno tutti gli auguri di buon compleanno e la speranza di buoni risultati nelle prossime gare di cui vi daremo aggiornamenti sempre qui nella nostra striscia quotidiana e adesso andiamo con il calcio a vedere il programma della prossima giornata del campionato di Serie A ieri la Coppetale con la Juventus che ha completato il quadro delle semifinaliste Juventus che affronterà la Fiorentina dopo aver battuto a fatica il Sassuolo l'altra semifinale sarà il derby tra Milan e Inter le partite di semifinali si giocheranno con la formula dell'andata e il ritorno quindi la classica formula delle coppe europee ma andiamo qui a vedere invece per quanto riguarda il campionato essendoci stata la Coppa Italia fino a ieri non si gioca oggi si parte direttamente domani con tre partite tra le quali la sfida al vertice tra Napoli ed Inter prevista alle ore 18 allo stadio di Gormando Maradona di Napoli e poi Lazio-Bologna che aprirà il programma alle ore 15 alle 20.45 invece si affronteranno Torino e Venezia nella giornata di domenica alle 12.30 il lunch match tra Milan e Sampdoria alle 15 Empoli-Cagliari-Genoa-Salernitana e della Sverona-Udinese alle 18 Sassuolo-Roma alle 20.45 Atalanta-Juventus e Spezia-Fiorentina quindi il quadro della giornata si chiuderà con Spezia-Fiorentina soltanto lunedì alle 20.45 Possiamo parlare anche di pallacanesto perché si avvicina la sfida a Pistoia con le parole dell'assistant coach Campigotto cerchiamo di anticipare i temi salienti della sfida che vedrà la Apple World West nel tentativo di allungare la striscia vincente e consolidarsi sempre più leader del campionato di Serie 2 nel girone che la riguarda naturalmente Coach Campigotto, domenica partita che vale il primo posto solitario del girone verde tra APU, All World West, Udine e Giorgio Tesi, gruppo Pistoia nei numeri però una sostanziale differenza l'APU nella differenza canestre ha più 219 Pistoia ha più 123 Sicuramente Pistoia sarà una partita molto molto complicata lo dice la classifica lottiamo entrambe per il primo posto loro stanno avendo un rendimento altissimo nonostante il cambio di giocatore dello straniero nello spot di guardia sono una squadra fisica come lo siamo noi sarà una battaglia molto divertente domenica sera Come hai sottolineato Pistoia reduce da 5 vittorie consecutive con Capodorlando, Mantua, Baccheri, Trapani e Assigeco Piacenza attualmente è il quarto attacco e la quarta difesa del girone e sembra essere riuscita a sopperire alla partenza di Jesse Johnson con l'ingaggio di Gage Davis Si è inserito benissimo all'interno dei giochi di Pistoia è un giocatore si vede intelligente, molto atletico non può essere lasciato libero sull'arco del perimetro sarà un avversario difficile da marcare Tra i giocatori che si stanno mettendo in luce con la maglia toscana sempre Carl Wittola, abbiamo parlato di lui anche in occasione della gara adiantata è il quinto rimbalzista al momento del girone quinto nella valutazione complessiva e dobbiamo fare una menzione anche per quanto riguarda Daniel Utomi attualmente uno dei migliori realizzatori nei tiri da tre con un 48% Sono secondo me l'arma in più di Pistoia perché alzano la fisicità in maniera incredibile sia in attacco ma soprattutto in difesa sono diciamo quasi intercambiabili come ruolo Utomi sicuramente più perimetrale rispetto a Whittle ma Whittle sa farsi valere con la sua fisicità soprattutto a rimbalzo e in contropiede E dunque speriamo davvero che l'Apple World 2 West riesca a piazzare un altro colpo per allungare quindi come dicevo consolidarsi in testa alla classifica del girone di serie A2 in cui l'Apple è inserita Andiamo avanti adesso con i programmi di oggi i consigli per la visione del nostro canale al di là delle edizioni interregionali in diretta come sempre vi diciamo poi c'è il pomeriggio calcio che è poi un pomeriggio sport visto che si parla un po' di tutto alle 15 sempre in diretta questa sera alle 19.30 Alberto Terasso con il suo tam tam per gli approfondimenti sui fatti della città e della regione alle 21.00 il Bargigia condotto da Paolo Bargigia e Massimo Campazzo con le anticipazioni sulla prossima giornata del campionato di serie A tra cui naturalmente anche la partita che vedrà impegnata l'Udinese in trasferta nel derby del nord-est a Verona ci sarà molto però anche del match scudetto tra Napoli ed Inter che è previsto invece domani alle ore 18.00 E' tutta la parte mia, vi ringrazio per averci seguito vi lascio alle previsioni meteo a cura di Trebi Meteo Un saluto agli amici di Udinese TV e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo venerdì caratterizzato da un peggioramento delle condizioni sul Friuli Venezia Giulia per l'arrivo sull'Italia di un impulso freddo proveniente dal nord Europa nuvolosità in aumento quindi a partire dal pomeriggio con qualche isolato pio vasco vediamo nel dettaglio le province di Pordenone e Udine dove avremo una giornata sostanzialmente stabile e asciutta seppur con qualche addensamento in più di passaggio nel pomeriggio temperature massime fino agli 11-12 gradi minime che non scenderanno al di sotto dei 4-5 gradi sulle province di Gorizia e Trieste nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio qui con qualche pio vasco ma di debole intensità temperature massime che toccheranno gli 11 gradi su entrambi i territori per dettagli maggiori sul tempo nelle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo grazie a tutti